Ciao ragazzi, buon pomeriggio dalla città bella di Bucharest andiamo al centro di città per scoprire la città bella ho avuto con me il mio amico boy e andremo immediatamente senza perdere qualche tempo al centro di città, andiamo! qui siamo in l'Underground che devo dire è meraviglioso voi potete esprimere a tutti i milioni di follower che stanno guardando questo video dove stiamo andando per il nostro primo passo? Sì, certo, siamo qui in Valle Iallomicelli alla fine della connexione M5 connexione e andremo al centro di città restate con noi ragazzi, sono impressionato per l'efficienza e per quanto nuovo, clean, moderno è l'Underground qui in Bucharest molto, molto impressionato e qui sono in il river Dubovica questo meraviglioso river che è passata per la città bella di Bucharest e questo è l'opera nazionale qui in Bucharest che è, come puoi vedere uno di tutti i migliori concerti in questa città e questo è il palazzo di Parlamento wow questo bambino è assolutamente bellissimo maggiore 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 venga a a a a maggiore è non in Roma ma in Romania e questo è perché è anche il simbolo dell'Empire romano perché ovviamente questa terra è una terra latina è una terra è pericolosa quindi è pericolosa questo monumento ecco ecco abbiamo trovato sicuro il centro del centro del centro e stiamo iniziando avanti ragazzi vuoi dire dove andiamo? andiamo all'erestero che è bellissimo andiamo allora la vita è andata facile qui nel centro e voilà siamo Eresdro che stiamo tenendo un rilassamento molto e rilassamento nella natura e sì è bellissimo vedere tutta questa bella natura nell'antica di Romania non sono in una 5 star ma desideriamo prendere questa bella canale che avremo un pov di questa magnifica nuova let's go and find out this beautiful place sì the anchor has been removed lifted and me and Boyo we are definitely moving how do you feel Boy? how is your sensation? I'm feeling amazing the breeze the breeze is going through our hair you know very relaxing very good very good this place is very nice I actually feel very good emerged here in the nature and it's very very nice guys this is definitely a must for you if you are coming here in this lovely city for relaxation for relaxation boy I want to say that it's beautiful it has been an amazing trip I'm glad you came here we saw some nice I hope you saw some nice things and our viewers your viewers they see through your eyes what we had here so anytime you can come to Bucharest will be nice thank you very much boy you are very good boy so guys I am at the end of my trip I really had lots of fun I really enjoyed came here in Romania I really want to say thank you to my friend Boy that with his help he allowed me to visit this beautiful city thank you very much boy very welcome Boyo anytime we're gonna definitely do other trips together exactly for now that's all thank you thanks for watching the video if you enjoy the video and if you like put a like and subscribe to my channel thank you ciao ciao